risveglio burascoso e giustane si è fatto una dormita dopo dopo abbiamo sconfitto il custode come custode proprio licenziato vabbè si senza l'uso delle mani se poi non è morto proprio distanguato lì si sa i ganci ci dobbiamo aggrappare ai pacchetti si va verso la prossima area e solo possiamo aggiungere eccolo lì è così fuma la sigaretta tipo pausa ma è vero penso perché fate le mani alla bocca vuoi cacciare al fumo quindi penso di sì i cuochi sono abbastanza simpatici già è questa ai la fame mannaccia questi cosi che sembrano tutte le pancette a un buon topo eh ah questi sono tutti i vestiti invece straccetti eh eh se senti bene si avverti si avverte anche lo respiro di lei oh quel topo è rimasto incastrato adesso lo libereremo cia mia fatti capanna buono il topo buono però scusa non dovrebbe avere la bocca sporca di sangue è pulita con la pelle del topo la pelliccia no invece il mio livello preferito è con la degli ospiti ah sì sì per quando mi fai un sacco d'anzia in quella parte della corsa finale però mi piace divertente dai non ce la fa un po' sporca questa porta questo pavimento questo è tipo la dispensa si percepiscono ma se mi piace molto è questo fatto che tu guardi tutto attraverso come se fosse aperta a metà l'edificio no è che tu vedi proprio che passi pure i muri lo vedo in che senso tipo vedi qua lo vedi il muro sottile e ci guardi attraverso una specie di spazzola una cosa molto carina oddio ah qui li lavorano allora si però vedi c'è anche il pesce è la carne di bambino non penso che c'è un bambino così no non è quello che hai visto eh no 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 lascia stare certo questi però questi cuochi sono simpatici però allarme scatta proprio di continuo ah però questi hanno una maschera in faccia eh hanno un quali invece di quella penda sono vabbè membri di bambini bambini super dotati però eh vedi che sta a casa non si sa no c'era tipo da so cioè vedi questi c'hanno pure l'acconciatura mi ricordo che c'era il trofeo simbadio che si chiama il trofeo aiuto cuoco dovevi buttare il cibo nella pentola ah si si mi ricordo poi qua uno dice vabbè ma è uno però tu non sai che in realtà sono due scopri dopo tu stai tranquillo anche poi qui è più illuminato è bello largo quindi tu sei abbastanza tranquillo ho visto? ho visto gli occhi fulmini ha lasciato il forno aperto e cosa sta cucinando? che è? si lascia il forno aperto? vabbè una salsiccia ne abbiamo interrotto chiuso eh stai un po' rompendo eh minaccio ti rompo tutto chiuso che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? Anche questo Perché non lo ha più No, è che sta già incalzando Wow, che pesce Che pesce spada, guarda E quello è il marlin Quello è il marlin, quelli sono squale invece Sembra I vostri pesci Tutti in messia così Eh vabbè Stanno c'è tanto spazio, uno deve pure arrangiarsi Ok, si va Ah, queste cose Che quelli sono due cuocchi gemelli Che sono, erano tipo attaccati Perché erano tipo gemelli Siamo divisi, però comunque fanno tutto quando è ancora insieme Tipo Però queste funzioni più private Ah, quello che cos'è, vediamo Sono un quadro Tipo la madre forse Non sembra più la nonna Ah, che quello sta dormendo L'altro Ah, sì, sì Oh Dormono pure insieme Però non è un letto matrimoniale Sono due lettini singoli attaccati Oh mio Dio Non è se che la butto in faccia Oh no Hai visto? L'ho svegliato così Ah, però almeno adesso vediamo E poi hanno fatto tipo quei bei fotomontaggi Che in realtà sono Uniti, però sono divisi nel quadro Tipo quei collage Ma ci sono pure le loro foto Tipo mentre lavorano Guarda Sì Beh, giustamente Puoi inquadrare qua Un cesso Ho incominciato da fuori il cesso Così, misteriosa verge Ma a caso Volevo andare al cesso Mi sembra È veramente È libero Non è male Non volevo vedere questa scena Oh, però Sai che a che mi serve? Aspetta Ah, quella porta giù Ma non la devo prendere L'ascensore Ma adesso sono svegliate Tutte e due Sì Ah, questa è la parte di prima, no? È la cucina Adesso dobbiamo fare il tratto Per prenderci la chiave Per aprire la porta Ok Faccio di quanto ricordavo Salsiccia? Salsiccia Invece di mangiarsi la salsiccia Deve mangiare il tovo Non mangiamo, scusa Infatti Poteva approfittare Ah, qua era per fare le salsicce Ti ricordi? Sì, che dovevamo fare le cose Ah, per saltare là Giusto Quindi Dobbiamo prima però Metterci la carne dentro Andrò con l'ascensore E' il porta Il portavivande Eh, però ti ho detto Questa Carne di dubbia Provenienza Ah, ti posti Specie di prosciutti qua Non si sa Di che cosa so Vabbè, però Visto che noi abbiamo visto Proprio la scena Di quello che Cosa faceva con quei bambini Vabbè, diciamo Però vabbè L'unica cosa che comunque E' una cosa che non ho mai capito E' che Questi comunque alla fine Vabbè, forse è proprio il senso Della pazzia di questi Perché Non sono nemmeno messi proprio Al Di intergracist Sono per le oster Eh, perciò Ok, tre prosciutti Tre pezzi di carne E basta Facciamo un po' di salsicce E' una scena Molto disgustosa Eh Le salsicce Che luce fu Questo non so Che dei due Però penso Quello che si è appena svegliato Se ci sono Qualche animali Questo Questo Ha il formaggio Il rumore Quando quello è concentrato Proprio lo si Mi sa che urla Ma che parte l'ascensore Quello Quello sale subito Se non sbaglio Stamente Fuggi Che devi fare? Eh no Devo aspettare che Vieni quello Cosa sa In dall'istante Quello è carino Vedai Un certo fascino Ah qua Questa è una parte Difficilissima Prendere Stacchiate Di questo Ci vuole Ah si Noi dobbiamo distrarlo E prendere Quella chiave Eh Questo Ma che sta a fare Scusa Noo Noo Oh Oh Aiuto 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 Oh No No Oh Che mi hai visto? Ah Che fai? Ah va a spegnere qualcosa Cerca Cerca Che se no Ma ce ne vorrò pagare Andiamo Corri 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 Ah 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 Dai Vestemmi Hai lanciato questo Lo qua Invece che Il latino Si è potuto nascondere Quale Ma è chiusa la porta Non devi fare subito Aprire Che quello Ma Arriva Sta porta è pesante Eccolo Eccolo eh Io non so Sto andando a me Tutti i lavori Che sta facendo Colpa di questo Eh per farci Per acchiapparci Oh Che schifo Nella costa di scarico Si Guardi c'è tipo L'imbuto Spada nella roccia Accendi Ok Siamo passati Oltre Prima Questo tunnel Per l'ostrae L'aria Ah Quei due L'avano i piatti Eh infatti Poi lavano tutti insieme Poi si supportano Amice Però mi sembra Che questo tunnel Che uno dice Vabbè bella Staparte Te la fai tutta così Però se non sbaglio C'è tipo un blocco A parte qui Non ti fa salire Qua c'è Non ti fa passare Quindi non Dobbiamo forse Prendere la strada Quella Di qui Però Prima di andarcene Noi dobbiamo Attivare Sto naso Trasportatore Se non possiamo Far nulla Salve No no Non volevamo disturbare Continuate la vostra attività Vabbè uno No no Pure l'altro Cerca E qui effettivamente Se uno L'aveva capito Capisci che sono in due Perché uno Poteva pure pensare Che era sempre solo uno C'è qua È proprio palese Tutte e due Che? Vabbè Ti vedi tutte e due Quindi A me non pensi Ma non ho capito Scusa Questi lavano questi piatti In queste condizioni Cioè non li sciacquano Li lavano solo Vedi pure là È pieno di schiuma Eh non so Che fanno Questi rossi a schiuma Di scadena Ah qui Cosa devo fare Aspetta Ma che questi Si ingazzano Scusa Vabbè Vabbè L'importante È che non ha Interrotto il flusso Probbiamo Era proprio Salire in cima Rivoltare no Che si deve saltare La lata Dove stanno quelli Stanno Stanno Bailando Ah Ecco oh no proviamo oh no no oh no così imparate a fare le filete di piatti altissimi io me ne vado oh sarà troppo bella questa parte eh ma il fatto che boh tu dici ah facile però non finisce qui ma io è la parte difficile tu dici ah che bello me la faccio proprio soft appeso poi lo scemo manco la premela leva non mi bestemmiare tanto non mi prendi ho pensato di essere morto oh aiuto no oh e poi è difficile che tu devi stare oh c'è una mattina di vino oh aiuto ah 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 ma ci abbiamo fatto il primo colpo belli insavonati oh si continua a buttare la roba sta bestemmiando sto c'è vediamo adesso via qui finisce il capitolo 3 noi siamo già oltre metà gioco che sono 5 capitoli ciao 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 ciao